Oggi facciamo un piatto nuovo che mi sono inventata io, penne all'arrabbiata, un piatto di pasta un po' piccante. Puoi usare il peperoncino secco, ma ovviamente quello fresco è meglio perché c'è proprio un suo sapore particolare. Tanto perché sono penne all'arrabbiata, non nervosette, indisposte, irritate, no, arrabbiata, incazzati neri eh. Poco olio, aglio schiacciato con lo spremiaglio, è pure fresco, siamo in stagione. Appena soffigge aggiungiamo i pelati, il sale, perché usi i pelati e non i pomodori se siamo in stagione? Perché grazie al turismo i pomodori in stagione fanno sempre cagare, perché purtroppo dobbiamo fare la coltivazione intensiva. Con i pomodori freschi ci vediamo a settembre. Deve cuocere circa 25 minuti, ogni tanto aggiungi dell'acqua, se vedi che si restringe troppo, fiamma bassa. Mettiamo la cottura in padella, a fiamma spenta mettiamo prezzemolo abbondante e un cucchiaio d'olio. Sui piatti, altro prezzemolo, del pecorino, poco poco, altro peperoncino e pronti! La voglio sentire bestemmiare! La bellezza, la bellezza! La prima volta vi parlo di un'altra mia invenzione che si chiama carbonara. Grazie per la visione!